Sono le 15.43 di lunedì 27 luglio, sono appena rientrato dalla costiera Amalfitana tempo di prendere il bolide e si riparte, vado a raggiungere E dopo 600 chilometri sono arrivati Dopo Citano, Perugia, Perugia-Aquila Eh, la macchina, mi va capire E l'hotel Allora vengo da lei, mi ha fatto l'offerta migliore, l'altro mi chiedeva 60 A dopo Quanto vuoi? No, l'altro mi aveva detto 60, ma lei se me li mette 50 vengo da lei Quanto ci viene lei da me? Verso le 6, va bene? Stasera? Sì, siamo in bici, veniamo verso le 6 Va bene, va bene Va bene? Sì Va bene, ne prendiamo in circa 50 euro Sì Quindi in centinaia lì circa, o poco meno Va bene, va bene A dopo Ciao ciao Grazie Forte questo ragazzo lo fa tutta Mamma mia Siamo delle brave persone e stiamo aspettando Franceschi Mentre con la merda di Tommaso Anzi su Ha paura perché sta lunga Mognotti Ah, su Oh, non si sa che la gioca È la puenza Adesso, dopo una bella pausa adesso si aspettano gli altri pochi chilometri stiamo ad arrivare in genere ma basta ciao Eh ma dove cazzo andiamo? Eh prima Dove cazzo andiamo? Andiamo a dormire lì alla preteria Con il suo acchiappello Che poi hanno fermato anche questa Vabbè ma abbiamo il cielo quello Anziù All we got is that Andiamo a dormire lì alla preteria Andiamo a dormire Grazie